Ciappale! Uno di qua che li prende di qui! No, non cadi di lì! Schiaccia! Schiaccia! Ok! Troppo lento, va bene! Però hai visto che il movimento è giusto! Ha toccato la coppa, devi dargli un po' di più! Eeeh, oh! Stai a rappiare! Lui lo può fare, dov'è? Lui lo può fare di lì! E qua ti voglio da vicino così, eh! A lui piace! Eh, ma devi essere veloce! Perché... Non è così semplice, eh! Eh! Non è così facile da lì vicino! Mi è andata di culo, eh! perché il momento che gli ha dato si sono distese le forcelle ha picchiato le forcelle se solo gli davano indietro perché è un montesa perché è un montesa sennò ti capottavi indietro ti è andata di culo tanto ho già provato piano piano quindi ma tanto si ferma con la coppa anche se gli dali resta lì certo ma come dice lui il dito sulla frizione sempre no guarda avanti no qua al davanti perché se lo metti qua il di dietro è fermo là sotto ricorda di cosa ti ha detto il Beruschi toccalo tocca al davanti devi toccare il davanti tocca al davanti appena appena ma toccalo e allora tu sei passato il più a superare l'ostaco poi vediamo giù si va no e farlo giusto lui non tocca al davanti rischi l'inverosimile così perché rischi l'esagerazione così se non tocca il davanti quando il dietro ti arriva su ti va fuori alta Pietro no anche a me non mi piace ok la tua è più veloce tu sei arrivato fin troppo veloce però l'hai fatto giusto devi arrivare su coppiti piedi sul piedi non tirare giù e tieni la frizione oh bravo prossimo giro più morbido sei a posto figaro aspetti troppo te aspetti tanto quando ti prende droppo il dietro dopo la nostra ti porta su ancora alto devi accompagnarla via di più un po' più veloce non esagerare a gasare sei in gara ti ciula questo qua perché se sei in gara ti frega perché lui continua a metterli giù ma passa parca miseria di qua adesso non avvisarmi eh 10 alla marcia occhio eh fermati sotto sì perché lì si appoggia poco sotto eh prova non avviso non avviso